Ciao, mi chiamoli. Questa è la seconda puntata che sono a Palermo. L'anno scorso sono stata a Palermo per un mese e mezzo. Ho frequentato la classe del livello intermedio. Mi trovavo a Palermo, le lezioni erano interessanti e la gente a Palermo è simpatica. Mi sentivo familiare quando sono stata a Palermo l'anno scorso. Per quei motivi ho scelto di ritornare a Palermo quest'anno per frequentare di nuovo in summer school alla scuola di italiano per stranieri a Palermo. Qui ci sono molte attività per gli studenti per conoscere meglio di Palermo e la gente siciliana. Quanto tempo sarai in Italia questa volta? Questa volta sarò a Palermo per due mesi e poi vado all'altra città italiana per studiare. Se vuoi spiegare ai tuoi coetanei perché scegliere questa scuola. Prima era una borsa di studio che è data dal dipartamento di italiano della mia utilicità. Quando sono venuta a Palermo non avevo idea che questa città potrebbe essere bella, familiare. e così era diversa da quello che avevo pensato prima di arrivare a Palermo. Quindi l'anno scorso non avevo scelta, però quest'anno ho scelto di nuovo a ritornare a Palermo per incontrare di nuovo con i professori carini e simpatici. posso incontrare anche gli altri studenti che ho conosciuto l'anno scorso. sono l'anno scorso. Ciao! Ciao! Ciao!